la messa si terrà dal lunedì al sabato compresi battesi patrimonio e funerario come si va? come si va? come si va? è troppo bella questa luce si Don Michele? si sta preparando per la santa miss porco che va, poi lo vamo con un solo medio e privato per la santa missa per la santa missa per la santa missa per la santa missa